Oggi volendo, se avete bisogno di cambiare i dati, vi aiutano a cambiare. Allora, vi dico che il mio dono del cerebro ci ha salvato più di me, perché io lo ho lasciato a casa, guarda il bus, ci vediamo. Qui, come vedete, c'è uno solo, c'è una zona molto ampia, molto grande, poi ci sono bancarelle, ci sono i bagni, ci sono i posti, qui ognuno va da qualche parte, quindi è importante obbedire all'orario, vi ripeto, va bene? Quindi quando ci parliamo di un posto, di un orario, c'è tempo libero, fate il giro posto, fate le foto, eccetera, poi tornate al tourman. Sì, mi raccomando. Esatto. Certo. E ci fermiamo, quindi. Calciatori. Allora, il mio numero del telefono, salvatelo. Aspetta, stiamo facendo il video. Ci fermiamo. Adesso avrei partito di fare foto, deciso di fare un foto sui giorni. Io non si la sape, ma che non si sape. Non è giocato. Di robe a me. Non è giocato. Non è giocato. Qua sembra piramidi, ah no, di zone. Questo? La Padocia. La Padocia. La Padocia. La Padocia. La Padocia. La Padocia. Bello. Dove dobbiamo andare? Giù di là. No, dobbiamo fare il giù. 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 No, 일이 fatta! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.